Musica Raccolgo le segnalazioni dei cittadini, cerchiamo di dare risposte, l'amministrazione comunale deve dare risposte a situazioni di invivibilità inaudita. Mi trovo in via Georgiche, a pochi metri da Via Alemagna-Grecia, per capirci alle spalle o lateralmente rispetto ai giardini Virgilio. Guardate un po', c'è una situazione indecente, questi alberi, questi pini di altissimo fusto dal tronco davvero possente, hanno letteralmente sollevato la pavimentazione e ora la situazione non pericolosa, pericolosissima, tragica. Guardate un po', se io devo camminare sul marciapiede, devo per forza camminare sul marciapiede, non è che posso camminare dove passano le auto ed essere travolto, quindi devo per forza camminare sul marciapiede e qui si cade al 100%, non al 99%. Guardate un po', guardate, qualcosa di indescrivibile, di incredibile, i mattoni sono completamente sollevati, ma la situazione diventa ancora peggiore qui, perché le radici ovviamente hanno sollevato, alcuni mattoni proprio, vedete, si sono completamente staccati dal marciapiede. E stessa cosa dicasi qui. Allora, già qui ci sono rischi gravissimi per le persone normodotate, ma immaginate un po' i rischi che corre un anziano. Voglio farvi vedere, è mai possibile una situazione del genere? È mai possibile? Ditemi voi di grazia. Allora qui una soluzione va trovata, l'amministrazione deve intervenire. Signor Melucci, sindaco di Taranto, assessore Ciraci, ai lavori pubblici, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo guardare la forza della natura e guardare le radici degli alberi che fanno saltare in aria i mattoni? E subire passivamente? Cosa dobbiamo aspettare? Che la gente cada, vada a finire in ospedale, si rompa un arto o addirittura batta la testa e riporti conseguenze fisiche irreversibili, tragiche? Guardate, guardate, perché le immagini sono più eloquenti di ogni mia parola. Una situazione indegna, indegna, guardate, pezzi di mattoni, mattoni completamente sollevati, sollevati, perché ci sono, vedete, guardate qui le radici, facciamole vedere da vicino, guardate, li hanno letteralmente proprio fatti sobbalzare, saltare in aria. Guardate qui, guardate, è uno scempio, in nessuna città italiana succede una cosa del genere, si trova una soluzione rispetto a certe situazioni. Gli alberi e le radici sollevano la pavimentazione in tutte le città italiane, non solo a Taranto, solo che a Taranto non si riesce a trovare soluzione. Quindi, caro Melucci, caro Ciraci, datevi una bella svegliata, perché siamo in una città civile, non in una terra abbandonata, dominata esclusivamente dalla forza della natura. Grazie a tutti.